Musica Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane Oggi vi farò una bellissima recensione della custodia della Trexta fornito dal sito Mellogs Allora, vediamo subito come si presenta questa custodia, come utilizzarla al meglio e anche i materiali di composizione Allora, come possiamo vedere, intanto già subito possiamo notare al tatto che si tratta di pelle, diciamo un similpelle che dà un'ottima qualità al tatto sia sul fronte sia sul retro Retro liscio, il fronte molto ruvido ma anche in bello stile Questa custodia ha diverse funzionalità Allora, intanto vi facciamo vedere subito come si inserisce Allora, apriamo la custodia attraverso il nostro simpaticissimo linguetta La nostra simpaticissima linguetta Prendiamo il nostro iPad e inseriamo la linguetta insieme all'iPad all'interno della nostra custodia Che possiamo sigillare perfettamente, non è assolutamente rischioso inserire qui dentro, anzi è anche protettiva per urti, graffi e quant'altro Inoltre possiamo rendere anche la custodia un bellissimo stand per il nostro iPad Vi faccio vedere subito come ho montato questo stand Allora, praticamente noi dovremmo prendere la nostra custodia Inserire all'interno di questa fascetta All'interno di questo buco la nostra fascetta E subito inserirla all'interno Dopodiché piegare il nostro, diciamo, la nostra custodia Per ottenere un fantastico stand Un attimo che Dovevo inserirlo al contrario Quindi all'interno inseriamo la custodia All'interno ovviamente dovremmo piegare la custodia per poterlo fare Se no non diventa molto agevole la cosa Come potete vedere ha già assunto la forma Ma noi dobbiamo metterlo su questo lato Perché si presenta una gommina Che ci permetterà di, come potete vedere, incastrare il nostro iPad E renderlo stabilissimo Va bene ragazzi, io vi lascio con questa nuova recensione Qui sotto metterò il link per poter acquistare Questa bellissima custodia Ricordo della Mellogs by Trexta Ci vediamo al prossimo appuntamento Ciao a tutti